Va bene. Allora, Clem Regione Marche, sezione provinciale, propone un altro incontro per spiegare e approfondire alcuni temi molto cari all'associazione. Oggi siamo qua per presentare la nuova conferenza che si terrà domenica 20 gennaio con il dottor Scoglio, a tema legato alla salute e a un approccio diverso a quello che può essere la prevenzione e la cura. Abbiamo appunto il dottor Scoglio Stefano Di Urbino che è stato quest'anno candidato al premio Nobel per la medicina, quindi iniziamo subito l'anno con un pezzo da 90, credo, nella scia di quelli che sono gli eventi culturali che come associazione ci impegniamo ad organizzare per dare consapevolezza alle persone. Allora, quali sono le tematiche che verranno affrontate in questo incontro? Diciamo che saranno tematiche generali rispetto agli approcci alla salute che possono essere più o meno ordinari o alternativi. Io sono un ricercatore scientifico che si è occupato per molto tempo di sostanze naturali, molecole naturali. Alcune di queste molecole naturali hanno dimostrato di avere effetti a efficacia addirittura superiore ai farmaci senza effetti collaterali. Per cui parleremo di tutti gli studi che abbiamo pubblicato, a cui ho dato vita e che abbiamo pubblicato nel corso degli ultimi 15 anni, delle collaborazioni che abbiamo anche con centri importanti come il Centro Nazionale delle Ricerche o l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi penso che sia un tema che interesserà molto le persone che, visto che oggi la salute è un tema talmente importante per tutti, credo che sia un evento importante. Allora, una tematica importante, una delle tante aree che voi come associazione toccate, questa della salute e della consapevolezza all'acquisto e all'utilizzo di prodotti. Sì, dopo l'evento che abbiamo fatto sull'agricoltura e la buona alimentazione andiamo a toccare il tasto della medicina con un grande personalità del nostro territorio. Come sempre l'associazione Clema Regione Marche ha piacere organizzare questi eventi con persone che non sempre hanno il dovuto e giusto voce nei vari mass media, ma abbiamo delle personalità come questa nella nostra regione veramente eccezionali. Quindi siamo orgogliosi di poter organizzare questo evento all'hotel Flaminio di Pesaro a partire dall'ora 15, domenica appunto 20 gennaio e pertanto abbiamo già diverse e parecchie produttazioni, siamo contenti e cerchiamo di andare avanti così per il meglio.